bisogna sapere che ci sono tante cose interessanti nella tv italiana quando la gente si sveglia dai concerti sa che può guardare un cacchino di anello può godersi lo show benissimo dovremmo essere live quindi hello boomers ciao a tutti vi ritrovate sul mio canale twitch ora vorrei indicare in ordine ma non ce la faccio perché tipo specchiato quindi abbiamo amata valentina e sofia bentornate è un piacere riavervi qui grazie grazie dell'invito esatto e allora è un ritorno che perché per chi guarderà da youtube lascerò il link alla puntata precedente che ho fatto con le rega dove si parlava dell'uscita di questo magazine post poned 2020 che hanno realizzato loro l'assunto dell'anno che non è stato un festival sono andate praticamente sui luoghi dei festival che non ci sono stati l'anno scorso ed è stata una bella iniziativa ne parlavamo e a fine puntato detto regas molto bello visto che avete lavorato insieme ci avete messo una grandissima passione avete altri progetti per il futuro e voi qualcosa avete accennato ed eccoci qua eccoci qua ecco qua survival 2021 dai raccontatemi un po l'edizione 2021 visto che siamo un po in anteprima dai allora parto io dunque appunto come dice giustamente ricevi tu nasce un po questo magazine nasce un po sulla scia del primo numero nel senso che non era in programma all'inizio ma abbiamo dicci siamo trovate così bene siamo divertite e vogliamo continuare un po questo filore narrativo di raccontare un po questi anni diversi dal solito nel senso che appunto il 2020 abbiamo dato il punto di vista degli organizzatori dei festival rispetto ai concerti che non ci sono stati quest'anno ci siamo andati per davvero siamo andati in queste versioni un po potremmo dire zippate dei vari festival ne abbiamo recensiti tre abbiamo fatto un report abbiamo fatto delle intervise sul campo questo numero ci piace definirlo un po diciamo magazine di intrattenimento perché se da una parte raccontiamo un po questi festival dall'altra parte abbiamo tanto metto a lato nel momento sbagliato lato e così vediamo un po la grafica e cominciamo a familiarizzare a voglia e appunto magazine di intrattenimento perché abbiamo voluto aggiungere calcare un po più la mano sulla parte un po ludica perché ci siamo chiesti quest'anno dove non si capisce una mazza vaccini si vaccini no green pass come ce lo facciamo passare quindi abbiamo voluto cambiare un po il punto di vista sperando di fare sempre qualcosa di un po particolare rispetto magari a intervista le band eccetera e quindi abbiamo voluto portare il punto di vista di quelli che sono un po i content creator per gli amici diciamo chi si occupa come cant di dirette twitch podcast insomma chi ci ha tenuto compagnia quest'anno online e non e poi abbiamo dato anche un po di spazio al gioco ma lo scopriremo un po sfogliando le pagine del magazine ecco qua intanto andiamo un attimo alla chat sono in tantissimi salutiamo fulvio salutiamo alessandro grano zero stefano artur buonasera a tutti i ragazzi buonasera allora alessandro dice non vedo l'ora di avere la mia copia le premesse sono ottime allora se l'anno scorso eravate andate a sui festival che non ci sono stati quest'anno avete scelto e tre festival e second world raduno o meglio l'edizione limitata del punk rock ad uno bay fest positive edition e qua rimini che quello l'unico che mancava ero io e a tolmino che è un po la versione ridotta del punk rock holiday avete raccontato una testa il festival e come mai avete scelto questi come avete fatto il viaggio insieme quest'anno perché l'anno scorso eravate andate tu amanda e valentino insieme quest'anno come come vi siete distribuiti i viaggi beh allora qualcosa si è fatto assieme qualcosa no per questioni organizzative diciamo il raduno comunque abbastanza vicino a tutte quindi almeno un giorno siamo state la tutte insieme il bay fest è stato creato una situazione proprio di mille persone gita scolastica del liceo è stato bellissimo e mentre a tolmino sono andata io assieme a maurizio che nell'altra stanza salutiamo tutti maurizio tutti mauristi del mondo e anche quelli che non si stanno seguendo e quindi se ci siamo divise diciamo anche un po per come dire per sentimento quello anche esatto ecco bravo vale per genere ah dai perché quali sono i vostri sottogeneri dai dai interessante eh no io ho scelto raduno proprio perché tratta più che altro chiamiamolo quello che si chiama il ramon score più o meno ok e che quindi è il tipo di punk che ascolto io che ascolto di più insomma quindi mi sono cimentata io nel nel second tours raduno e avevo fatto tutti e tre giorni e l'ho impostato come una specie di diario dei della tre giorni però anziché decidere di fare un report più tecnico diciamo ho deciso che per tutti i tre giorni ho chiesto alle band che ci hanno suonato di dirmi in una parola cosa ha significato per loro suonare o suonare a raduno o comunque tornare a suonare su un palco quindi davanti a un pubblico vero davanti e non davanti magari allo schermo di un computer non tramite una diretta e quindi poi le band mi hanno risposto e nessuna risposta uguale quindi questo questo mi ha fatto piacere e e quindi tutti hanno dato più o meno correndo qua e il diario del punk rock raduno esatto eccolo qui e poi il sabato c'è stato il lancio del disco del primo disco dei ramones nello spazio e secondo me è stato bellissimo è stata una cosa super ma perché guardo di là se lo vedete anche voi perché sono nell'altra e secondo me è stato super emozionante e quindi esatto questa è la foto ufficiale e quindi ho deciso di chiedere o di fare una specie di intervista doppia a martino di ramon's world che ha avuto l'idea diciamo ciao e a jonathan di involve production che è questa azienda che appunto si è occupata proprio dell'esecuzione materiale da questo di questo lancio e quindi ecco l'uno mi ha spiegato un po come è nata l'idea ecco qua vediamo le interviste esatto e mentre jonathan mi ha spiegato come funziona non so la sonda cosa c'è all'interno della sonda come funziona il pallone come funziona poi il recupero perché non rimane nulla nel lo spazio ma poi la la sonda il pallone viene recuperato tramite appunto un satellite un gps credo quindi quindi in qualche modo anche una cosa ecco friendly ok esatto non come quei castoni di amazon barra che ho una sessuta grossa ultimamente si lancia nello spazio a tutti vanno io non ci sono ancora andato pure lavorando però non ci andrei neanche perché ho paura prendere l'aereo per andare a londra quindi figurati nello spazio andare sulla stazione internazionale benissimo allora ecco questo è stato più o meno ecco la mia idea fu ritrovato a pavia se non era artur però sì ecco esatto esatto artur non non era mai quindi mi fido sì sì no infatti è giusto infatti anche io ricordo che non era andato lontanissimo bergamo da pavia non lo so beh se sei una sonda spaziale magari non tanto se devi andarci in macchina un po ci metti io la concessione da romagnolo sono stato in lombardia tutti i week chiede per mille anni per concerti ma è tutto attorno a milano quindi non sai che non distinguiamo noi è bello non averne bisogno per quando ero piccolo che c'erano i premi della pellicceria annabella di pavia animali squartati brutta roba male 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 non andate alla pellicceria esatto ma neanche in un'altra città benissimo ecco quindi questo è stato è stato il mio il uno andiamo al bay fest ste positive test negative e qui tu amanda sì qui me la sono presa io la palla del bay fest da una parte perché vabbè così non è bello la palla del bay fest no però ci potrebbe essere un doppio significato visto che avevamo i palloni del di pancadeca fatti apposta per il bay fest quindi dopo diremo saranno gli stessi che sono in pre order scusate sì anche dopo lo facciamo anche vedere è infatti e dunque ho scelto il bay fest da una parte perché solitamente porta un sacco di gruppi che che mi piacciono e credo che per longevità di presenza a questi festival mi appartenesse di diritto dovendo scegliere tra i tre e poi perché appunto è stata un'edizione particolare che ha visto anche il coinvolgimento di pancadeca della redazione di deca di tutti quanti anche da un altro punto di vista nel senso che eravamo come si vede nella foto presenti con un banchetto abbiamo diciamo organizzato deca anzi ha avuto un grande merito e questo abbiamo organizzato quella che abbiamo chiamato la curva degli stendisti che era una realtà fantastica e quindi dai è stato bello partecipare anche in questa maniera come organizzazione del report ho deciso di individuare dei punti salienti un po di quello delle cose che mi sono piaciute di questo festival ho degne di nota e le ho un po argomentate luci e ombre nel senso che mi è piaciuto tantissimo i quadratini gialli poi vabbè quello di alberto dice su tutto dove poi nel test stavo per non venire e infatti io sono venuto al bay fest ma non l'ho detto a nessuno perché in realtà sono stronze dopo non ho voglia di salutare la gente perché dar vivo solo una persona odiosa e bellissimo tipo livello di positività il livello presa bene oggi solo due pallini esatto però mi piace che dopo ognuno per esempio vediamo il buon vecchio dario maggiore anche lui non era molto bene sugli eventi 2022 ma la presa bene era buona mentre warhol si sa che lui è sempre in piena carico molla perché sapete che lui al si drogando si dopo non è vero non si droga warhol no infatti è stato bello avevamo proprio in mente le barrette della vita esatto aveva in mente tipo le barrette della vita di dragon ball z queste cose qua e abbiamo mi son detta raccogliamo un punto di vista di che lì con lo stand che ha partecipato in un modo un po diverso cioè non da pubblico non da artisti a questo festival e vediamo un po come cosa ne pensano come se la passano e niente poi c'è anche un trafiletto se nella pagina successiva dove c'è addirittura la la parola del boss di deca in persona che ci ha lasciato una testimonianza anche su questo bei fest quindi allora che dire quindi se l'avete fatta intervistarlo esiste coercitivamente l'abbiamo ecco perché io sono quattro anni che provo a intervistarlo e ogni volta mi dice ho da fare aspetta sì ma infatti mi odia però vabbè diciamo che appressare la gente appressare deca è un bel ruolo che mi assumo intanto quest'anno avvenendo fuori con antonella elia contro lo sponsor della ruota della fortuna che ci fu indissimi in diretta con mike buongiorno bellissimo è vero è vero ricordo forse è stata antonella elia a rubare la salma di mike buongiorno si è vendicata al posto comunque torniamo al punk rock e non alle mumie sì e poi è stato è stato bello perché la diciamo che la parte che mi è piaciuta del più di questa edizione è che vabbè per chi non lo sapesse è stata diciamo realizzata al becky bay dove di solito avveniva l'after show quindi in sostanza era proprio un festival con i piedi nella sabbia in un ambiente un po più più familiare è stato molto bello da questo punto di vista anche l'acustico diciamo che ha accompagnato bene c'era più modo forse rispetto alla tradizione di anche chiacchierare con la gente conoscersi esatto quattropalle è stato è stato molto bello quattropalle? oh ce l'ho su oggi ho il tema del giorno non so cosa dire non so cosa dire quattropalle? eh quattropalle nel senso che ti ti scambi quattro chiacchiere ah ok ok a me vuol dire ti annoi molto ti dicono adesso sì l'argomento è diventato mike buongiornicentrico quindi la salma ce l'hanno in pellizzeria pavina oh mai basta nel contratto ormai ciao a tutti Ettore grande ciccia salutiamo gli amici di Pogodine che ci sono anche loro chiamati Pogozain che ci sono anche loro e loro non hanno messo la balla il bollo del allora no perché loro poi abbiamo detto intervistiamo qualcuno non tutti anche perché alcuni compariranno poi nelle sezioni successive del magazine quindi abbiamo detto ci siamo ci siamo detti di fare questa scelta qui anche per non risultare ma hanno detto che il momento topico è stato il divertimento totale lo show di jk dove erano tutti lì jk faccia e ride lui che diceva le battute e di solito una roba non molto vissuta male lo show di jk canzoni allegri ritmi maggiori un po' come vedere il lesden jake anche quei palloni gonfiabili si esatto stessa cosa diciamo che appunto li vogliamo tutti bene però è un po' entrato a gamba tesa sul mood scansonato del festival cioè proprio l'ho presa larghissimo però la verità è questa però poverino anche l'intervista che abbiamo sentito con Girardino è stata super interessante ci ha raccontato la sua storia cioè ti veniva voglia di abbracciarlo insomma eravate lì al sole tutto quanto ha riportato il lockdown per un'ora e mezza di concerto sì 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 no no ma ci sono anche concerti che non sono a tema col festival eh che magari sei lì che ti diverti e poi c'è un gruppo che spesta la bolgia oppure un festival incassato e ci sono i lesden jake coi gonfiabili esatto bravo che dici lesden jake anche perché sono finita io su Bayfest perché credo di essere l'unica a cui piace lo ska punk o affini cioè gli altri mi sanno quando vedono le trombe scappano eh ma io l'ho sempre detto confermo una volta scappavo adesso divento violento quindi è scherzo jake pino acustico è proprio una botta di vita ehm però dai il resto come se l'è cavato il ehm ehm gli acustici ma guarda infatti rispetto a quello che dicevi tu sulla differenza ad esempio tra Joy Cape e l'headliner del giorno prima che erano i Pancras ti dirò per me che ad esempio non sono super fan dell'acustico ehm mi ha un po' un po' un po' un po' aperto gli occhi nel senso che mi sono resa conto penso tutti di quanti modi ci sono di interpretare poi ehm l'acustico perché comunque sono stati due giorni solamente le esibizioni così e ci siamo ci siamo resi conto di quante chiavi interpretative ci sono quindi secondo me è stato è stato molto piacevole ehm sia per quanto riguarda le esibizioni poi ci sono stati anche dei picchi altissimi tipo col punk rock karaoke che ecco era la prossima domanda il tanto vituperato punk rock karaoke che canzone avete cantato voi? assolutamente nessuna ah siete andati lì facciamo la festa con Pancadeca portiamo eh non avete cantato? noi eravamo partite con una promessa fatta tra di noi fatto di sangue e mignolini noi non cantiamo no neanche dopo 100 gin non si canta no neanche sotto esatto abbiamo tenuto calda la zona banchetto mi sa esatto sotto palco ecco però no è stato bello anche quello perché comunque c'era un sacco di presa bene poi ci tengo a specificare che non è che eravamo seduti con le sedie si era in piedi i numeri erano più contenuti quindi c'era spazio quindi non c'era il pogo ma non è che eravamo proprio seduti quindi c'è stato modo anche di divertirsi anche perché se sei seduto il 14 o il 20 di agosto o il sole che ti butta lì esatto dopo un po' ti vengono e fai la fine di Mike Buongiorno la pellizzeria bella di Italia che diventi una lunga io mi sono sciolta esatto beh ci sono andata vicino visto che ero diventata del colore del nome che ho qui qui ero diventata di quel colore a un certo punto sì sono stata cinque minuti in spiaggia cinque senza crema morta hai detto cinque e fatto dieci ho fatto dieci scusate era due volte cinque enfatizzare comunque capita quando voi dalla Lombardia venite poi in Romagna che avete la pelle un po' più leggera in realtà un po' di poco c'è stato sì è vero Ettore 1989 è vero è vero è vero dai ci sono stati alcuni momenti un po' salienti però era tutto molto tranquillo è stato divertente ma sì anche in zona stand ragazzi perché appunto ci tengo a sottolineare che c'era una un casino pazzesco nel senso che noi eravamo lì avevamo la nostra destra under rock con il PGA e quindi c'era la ruota che usciva al genere facevano le cover per destinare i fondi l'isola che non c'è avevamo la nostra sinistra Alberto di Flamingo quindi faceva a spaccare in due da ridere che anche lui non faccia ridere Alberto però lui è veramente simpatico ma ha perso attrazione perché esatto questa è male questa è quella presa male che ti fa dire che è figata Alberto esatto e poi avevamo Pogo Zine poi Dario Maggiore poi al nostro stand c'era anche Warhols che ha riprodotto Sara Punca in analogico con tutte le ruote i segnapunti ci beccava la gente sì dai abbastanza devo dire sì sì all'inizio un po' timidi sì ma poi è stata partecipata ma voi avete partecipato a Sara Punca l'anno scorso? no a seconda edizione non dovete mancare va bene ah davvero no faccio un proseliti per te io faccio gli inviti per i canali twist degli altri così mi prendo libertà ormai fortuna che dei punti fortuna che dei punti scena non ci ne frega niente devo perdere la dignità sì sì assolutamente e tanto siamo forti su generi diversi quindi se giochiamo in tre va bene se giochiamo da sole possiamo fare squadra ma non lo so la nuova edizione l'importante è non sbagliare la maglietta cioè il gruppo della maglietta che stai portando e beh quello ah va bene per esempio Did Kennedy e Sofia sei ferrata? eh sì perché se devo rispondere alla domanda che hai fatto prima 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 chiedendo sui generi e tutto io faccio un po' fatica perché mi colloco in un in un lontanissimo anni 70 e 80 quindi è abbastanza difficile diciamo adesso dire ah in quel festival ci sono le band che mi piacciono perché o sono mezze andate o sono completamente andate ma io sono andata al punk rock camp tra l'altro parlando di maglietta dopo arrivo al punk rock camp io ho la maglia dei black mambas dei quali non saprei dire una canzone che ho visto una volta in Polonia ho detto la maglietta in figlia era sto concerto ero in Polonia con mio padre vabbè ma fa bene così si fa così giusto giusto quindi vedi ma tanto non ci saranno eh eh andiamo al punk rock camp eccoci qua yes voilà esatto di cui tra l'altro ehm eh vabbè allora punk rock holiday io non c'ero mai stata avevo comprato i biglietti erano lì in caldo pronti per essere usati covid vabbè uno dice ok eh quindi a quando ho sentito che c'era la possibilità di fare questa versione cioè di partecipare a questa versione un po' ridotta io ho pensato beh perché no quindi ho seguito tutto bene come hanno organizzato i biglietti buoni del festival intero no ah ok perché quelli buoni sono buoni per il 2022 castriando i biglietti a parte infatti avevano un prezzo diverso era tutto a qualcuno Ettore ha rosicato per non essere venuto eh era bello in effetti c'è stato però se i biglietti per il 2022 sarà ancora meglio eh no comunque è stato bello nonostante fosse ridottissimo e io per fortuna non avevo un metro di paragone cioè non potevo dire ah gli anni scorsi era più bello cioè io mi sono divertita perché a me piace divertirmi mi piace far cagnara e dalle foto come potete vedere di cagnara ce ne state come in Slovenia sono stati furbi diciamo perché hanno capito che se fai controlli all'ingresso delle persone poi effettivamente non hai problemi dentro quindi all'interno del festival stiamo facendo un po' anche qua adesso in Italia esatto esatto e loro ci hanno pensato per quest'estate secondo me hanno fatto bene e infatti ci ci si è divertiti cioè la situazione era proprio tipo ok è una specie di bolla felice e e alla grande quindi cioè è stato è stato molto bello è stato anche molto tra virgolette strano perché lì per lì uno era abituato a quello che stava succedendo al momento in Italia e quindi diceva wow c'è stata una bolla temporale sono tornata indietro nel 2018 e è stato molto fico abbiamo pubblicato la versione sia in italiano che in inglese inglese ho visto così no perché abbiamo pensato che insomma se qualcuno appunto dalla Slovenia piuttosto che qualcun altro che ha partecipato dagli altri stati europei perché c'erano una fluenza ovviamente per lo più europea e per lo più limitrofa alla Slovenia se potesse avere piacere a sfogliare il mio micro report un po' un po' così ma la domanda che ci stiamo facendo tutti è come è andato il bagno nel fiume Soca allora devo dire che è stato fighissimo perché a parte il primo impatto tipo di morte di ghiaccio e sembrava diverse volte lì è la roba più fredda che non è ghiaccio quell'acqua cioè è un tuffo e una granita però dopo un pochino la situazione migliora non è stato molto bello devo dire che su questo ecco quando il Lombardo esce dalla Lombardia va in Romagna e si scotta ma in Slovenia gli fa freddo il fiume mentre invece i tedeschi stuffavano dentro come se niente fosse loro non avevano mai freddo io invece scottata una sfigata vabbè comunque detto ciò appunto il ghiaccio del fiume Soca ha fatto in qualche modo è stato il refrigerante per il caldo del sole che c'era perché comunque faceva anche parecchio caldo si stava in realtà molto bene c'era un clima proprio giusto comunque nel report in generale vabbè appunto riporto cosa è successo più o meno senza ammorbare troppo tutti quanti e poi c'è un'intervista con delle domande spero interessanti fatte ad Andrei che è uno dei padri fondatori diciamo del Punk Rock Holiday e del Punk Rock Camp quindi come è stato organizzare in un anno in cui era obiettivamente difficilissimo organizzare è stato un po' la sminuta anche la loro perché all'interno doveva esserci poi hanno rimediato anche loro questa un po' in coro in questa situazione all'ultimo momento come molti dei festival di cui stiamo parlando è quello che si è fatto chi l'ha fatto l'ha fatto andando a compromessi perché compromessi sono stati e rischiando anche tra l'altro però ne varsa la pena immagino per tutte e tre per tutti tra l'altro Sofì di lo spoiler senza dire lo spoiler Io sono un po' nel senso faccio un po' fatica a dire le bugie e a come dire se ho una buona notizia tenermela per me quindi nell'altro in un'altra intervista quando Amanda ha buttato lì un ottimo spunto per incuriosire tutti a dire la risposta quindi ora tu dillo e io Ok praticamente avendo intervistato l'organizzatore ha fatto la domanda che un po' ci chiedevamo tutti ovvero visto che costruiranno l'autostrada lì vicino a dove c'è il pancrocoidei verrà spostato? Era l'ultimo anno che si teneva lì oppure no? Ora non ve lo dico Dai dicelo siamo qua Allora Smi Cioè il concerto c'è però con le macchine che sprezzano da una parte all'altra quindi nell'epoca devi stare attento a schivare le macchine Slava Le macchine Slava che saranno delle Skoda del 1987 Peggio i camion perché in realtà quello che costruiscono mi ha cioè ci ha spiegato che in realtà è una strada bypass per non far passare i camion in città Quindi da lì passeranno più camion che altro ma in realtà al festival Perché proprio in un fiume in mezzo alla natura È bello eh Più ti riconcilia che un bellissimo Scania che passa Un bel camioncino No ma non preoccupatevi c'è tutto scritto comunque no non lo spostano vabbè ormai No vabbè diciamolo Diciamole le cose Allora andiamo un po' alla chat che stanno scrivendo in tanti allora sarà tipo il fiume Trebbia come temperatura credo dai E soprattutto a Ettore chi se le incula il fiume Trebbia Scusa ma chissà che cos'è dov'è il fiume Trebbia io sono anche bravo in geografia ma il fiume Trebbia non so dove Ma è quello di Piacenza forse Io ammetto di non sapere Ettore è quello di Piacenza Non lo so ragazzi dai Diccelo Se il fiume di Piacenza è più caldo il fiume Trebbia Non sono qua che sono un esperto di misurare le temperature dei fiumi ma sicuramente il fiume Soca è più freddo del Trebbia Poi Bella Camp Ciao Velier Soca uguale crioterapia in effetti sì Comunque sì a Piacenza il fiume Trebbia ma come mai è venuto fuori il fiume Trebbia Ha spessato l'attenzione da Pavia La situazione in Slovenia in confronto alla Germania per i festival secondo voi Boh Io non so niente da Germania Io sono stata in Germania Ho un concerto due settimane No boh Dieci giorni fa vedrei Veneria con gli atlips e i straight line Entri col Green Pass Esattamente Cosa è che dicono che il Green Pass è solo in Italia No Ci vuole il Green Pass per entrare E poi devi lasciare Devi scansionare un QR code all'inizio L'unica cosa è che fuori dal backstage a Monaco Ma credo sia un fatto perché il backstage è uno dei locali più grandi d'Europa Fuori hanno il baracchino tamponi Quindi puoi andarti a fare il tampone direttamente lì Ed è gratuito per i residenti in Germania Ah Tra l'altro in linea con quello che dicevano i Dalton negli ultimi post Vabbè è un'altra storia Vabbè Comunque così è la situazione in Germania E non che Veneria sia un locale più grosso d'Europa Perché ci sono tante venue all'interno del backstage E quindi per aiutare a confluire magari Hanno messo il punto tampone lì Visto che ogni sera hanno quattro concerti in contemporanea nelle varie venue Ma infatti anche al punk rock camp c'era Per gli sloveni c'erano i tamponi gratuiti all'ingresso O per gli non sloveni era a pagamento Se no esibivi il Green Pass O comunque Oppure il foglio che dice che sei i recovery Insomma Ok Che avrà un altro no Ma prima di passare Scusami tanto Alla mia parte preferita del magazine Ci tenevo a fare una postilla su una pagina che abbiamo schippato Quella dell'introduzione Dove c'è un bellissimo artwork Ah sì Curato Aspetta che torni indietro allora Scusami Vai vai All'inizio è A pagina 5 Ok Voilà Eccoci qua Eccolo qua Esatto L'artwork di Federica Vulpis Che è una nostra amica Che era presente anche nella diretta da Grano Zero qualche giorno fa E appunto aveva già collaborato con noi Con una vignetta nel primo magazine Quindi quest'anno ha riproposto Un nuovo lavoro che ci è piaciuto moltissimo Quindi pam L'abbiamo schiaffato subito nelle prime pagine Di fianco Molto bello Allora Andando alla parte Che stavamo dicendo Com'è che l'avete definito all'inizio? Un magazine? Di intrattenimento Intrattenimento Ecco E se è un magazine di intrattenimento Potete portarvelo anche a spiaggia Perché se venite qua in Romagna È ancora piena estate Se vedete sono di maniche corte E quindi fare l'anno enigmatico E avete fatto un po' di giochi Ma è fighissimo Grazie Grazie No, l'uomo c'è d'erba L'ha fatto Davide Che è un nostro collega di pancadeta Grande Ah, canta, tra l'altro non so Hai provato a farlo? Sei riuscita a risolverlo? No, ancora non l'ho fatto Però L'uomo più odiato dai pancreas Quattro È vicino? Sì Bravo Ok, poi Basta, basta spoiler Ok, basta spoiler Andiamo avanti Poi trova le parole nascoste Nello schema Vabbè, questo è un classico Ecco, qua abbiamo dato Sfugo alla fantasia Abbiamo tenuto delle parole Anche molto 2021 Tipo Assembramento Sedie Ma anche Vabbè, sedie ragazzi Anche prima del 2021 Penso sia Un termine che si sia usato abbastanza Eh, ma non nei concerti Spero Ah, ok, vabbè No, perché io sono Quando vai a mangiare Si usa così E poi, vabbè Accredito Melon Ball Alcuni appunto Cos'è la Melon Ball? Sofi? Allora È una cosa che Se la ordini in Slovenia Sei un figo Se la ordini in Italia Ti guardano tutti Come se sei un pazzo Praticamente Allora, una palla di melone Eh No, allora È un misto tra Che io ho capito così Vodka liscia Midori E succo di pompelmo Ed è buonissimo E al Vodka liscia Midori E succo di pompelmo È un po' stucchevole forse Eh Sì Però No, il punto è che Al Punk Rock Holiday Al Punk Rock Camp Insomma È da anni Che è praticamente Il cocktail Del Del festival Eh Tra l'altro Raccontiamo Racconto Raccontiamo Perché in realtà È stata scritta A due mani Con il mio compagno Di viaggio Questa Intervista Raccontiamo Anche della storia Del perché Il melon ball È diventato così Famoso È così Bevuto E tipo Ci sono persone Che Eh Prendono un litro Di melon ball Ed era assurdo Da vedere Perché era gioco Intanto che lascio un attimo Qua ditemi Scrivetemi in chat Qual è la prima parola Che trovate Per esempio Ma è stato un campari Io è stato a Pogo Anche voi dalla chat Scrivete Vai Vabbè Arturo Ho capito che metti le parole Ti fa Il programma ti fa Il puzzle Però devi avere l'idea Non ci smontare così Esatto Sì quindi è appunto Questa famosa bevanda Che si Che gira Verde fosforescente Esatto E no Non è quello Con la mazzata in testa Anzi Credo che È vero Sofi Che contiene anche Un aneddoto su quello L'intervista Che si chiamava Summer Slammer Ok E cosa Loro lo chiamavano così Che poi hanno Però non lo fanno Più Vabbè Io smetto di dire cose Dopo che sono morta 15 persone Sì Vivo Tipo Può essere Ma Non lo spoileremo Spoileremo Comunque Le parole sono Distro Jagerbomb Plaggio Campari Accredito Che non bisogna più Richiedere Buonasera a tutti Sono appena arrivato Dove si acquista Questo bel magazine E Naturalmente Ci arriveremo Però diciamolo adesso Perché C'è lì Farti in guissel Con i soldi Quindi Naturalmente Per chi vedrà Da youtube Avrà il link Qua in descrizione Dove poter ordinare Sì Allora Vai Vai Vale Ah beh Sul sito di Pancadeca C'è una sezione speciale Che è il Pancadeca Shop E da lì Ci sono le 4 opzioni Puoi prendere Il digitale Che da 1 a 5 euro La tua scelta La coppia cartacea Dai rega Il digitale Non pensateci neanche Di prenderlo Esatto Poi c'è La rivista cartacea Che è questa Che stiamo Guardando È a 5 E C'è la promo distro Che sono 10 pezze 40 euro E il bundle Con il pallone Confiabile Vogliamo vedere Questo pallone Sì vediamolo Anche perché Fa ancora di più Giornale da Riviera No? Cioè C'è anche E vi arriverà Con la sabbia Di Giamarina Perfetto Fa vedere Perché c'è gente Sì ero in smart working E sono ancora in tuta Nessuno ha fatto domande Eccolo qua Bene Adesso prendo di vedere Quanti pallesi Riesci a fare Con la testa Aia Sì tipo 1 Perché è leggero Ah vabbè 1 è un numero 2 Ok buono Buono Hai raddoppiato Le tue intenzioni Iniziali Quindi è andato Molto meglio E comunque Andiamo Ed è attivo Fino al 31 Di Ok Scusa Scusa Fino al 31 Di ottobre Basta Ok perfetto Quindi ragazzi Andate a ordinarlo Mi raccomando Immagino che Pospone 2020 Si è andato bene Visto che siete qua Con il Secondo capitolo Sì Sì Devo dire che È andato bene Nel senso che Sicuramente Almeno Per come La vediamo noi È stato anche Un racconto interessante Di punti di vista Interessanti Nel momento In un momento Particolare Quindi c'era stato Da subito Molto interesse Noi ci siamo divertite Un botto a rifarlo Quindi a prescindere Da tutto L'abbiamo Comunque riproposto L'avremmo fatto comunque E niente Adesso è una settimana Che ci ha aperto Il preorder Del nuovo magazine Sta andando Abbastanza bene Non c'è stato Magari L'esplosione Dell'anno scorso Ma perché ci immaginiamo Che la gente Non sia più chiusa in casa E abbia Abbia da fare E no Però siamo Siamo contenti Siamo molto contenti Di come sta andando Esatto Bene Quindi farti in guise La tua risposta L'hai avuto Comunque Michael Ho bevuto con una mazzata Il gioco d'acqua in faccia Ma anni fa Arturo ha trovato La parola Confermo E Ettore ha già preso Quello con il pallone Dopo Ettore ci riscrive Nelle prossime Anzi Su Youtube Quando arriva Nei commenti E scriverai Quanti palleggi Sei riuscito a fare E di la verità Anche metti 1400 Ok E insomma Queste idee vanno supportate Tutti possiamo mettere 5 euro Grazie E comunque E palcadeca Dice Anche con la mia multa Di Giamarina Quella potrebbe essere Tipo La copia limitatissima Che multa ha preso Eh Velocità Sì Mi sembra O parcheggiato Deca Scrivici che multa hai preso Perché è stato abbastanza riservato Su queste informazioni Cioè Velocità Mi incasta Cazzo venite i lombardi A fare di sbarri Qua da noi Che ci sono I limiti bassi E a sprezzare Cioè Il parcheggio Ve lo passo Se avete preso la multa Di velocità Vi dico Andate a fare in culo Cioè Dai No Non lo so Non lo so In realtà Ci sono i bambini E come io che adesso vado a prendere In giro col cane Dopo se uno va In Cioè Mi sfrescia Gli dico Oh Comunque la multa È il test press È proprio È come il test press È quello che vale di più È il più raro Esatto Dai Sette all'ora in più Quindi Se era il limite dei trenta Facevi trentasette Dai Te la perdoniamo Va bene Il limite era dei centotrenta Facevi centotrentasette Vabbè Ok Quindi non sarà stata così salata Questa multa Comunque Andiamo avanti Eccoci qua Dopo i giochi E c'è Unisci puntini E uno Colori segmenti Che Penso che sia Il più facile Di tutti i tempi È vero È vero Però Ci piaceva l'idea Quindi Dai Bello Bello Quello dei puntini Non so cosa sia Però Non ci vuole un genio Per capire che È against the grain Esatto E quindi Niente Sempre sul filone Sul filone giochi Abbiamo lasciato spazio Anche Diciamo A Telle pubblicità Un po' più ludiche Tipo The Last Gig Che È il gioco Di Dr. Pepper Che tra l'altro Verrà a presentarlo Qua sul canale Quando uscirà Ci siamo già sentiti Siamo già organizzati Doviamo capire un po' i tempi Bello Figata Quindi niente Era il nostro vicino Di stand E abbiamo detto Guarda ma Visto che il filone Sarà un po' questo Ti va di Se vuoi Ti lasciamo una pagina Per Per spingere Anche un po' il gioco E così è stato Avete giocato Al Bayfest Che c'era Il test Sofia ha giocato Io sì 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 Io sono molto fan Dei giochi da tavolo Dei giochi in generale Quindi sì Io l'ho voluto provare E molto bene Anche perché ho vinto Quindi Ah ok È lunga la partita? Non è durata poco Però non era Una roba infinita Era una cosa gestibile Sono quei giochi Da tavolo Da moretta Diciamo Non come Risico Risico esatto 15 ore Finisce prima per accoltellamento Per quello che vuole Conquistare la Prussia Finiscono Relazioni Esatto Ok E dopo avete dato Il poster staccabile Eccolo qua Aspetta che lo faccio vedere Live Perché Sì perché si vede Un attimo A metà A metà Sono qua con la regia Eccoci qua Voilà Ta da da Ta da Disegnato da? Da me Ecco Complimenti Bello bello Grazie Se vi piacciono i The Exploited Se no Sono un gran fan Degli The Exploited E infatti tra l'altro Nel nuovo EP degli Zachary Ci sarà una cover degli Exploited Quindi Siamo l'unica band Che coverizza gli Exploited Questa volta abbiamo Minacciato di morte Che cos'è? Dice It Up È un gioco Di Dadi Che hanno fatto i ragazzi Di Yellow Dogs Che è appunto La serigrafia Di Manganaro Alex e Deferrez Non so se avete presente I personaggi E vabbè Che quindi Abbiamo fatto questo gioco Che tra l'altro Ho qui E quindi Abbiamo detto Il tema è sempre quello Raga se vi va Lo spazio è vostro E come funziona? Da che ci siamo? E praticamente devi Cioè Facendo una combinazione di numere Vinci le carte pizza È una cosa molto semplice Eh Sì Se digerisci il cartone Ah ma si gioca con la pizza vera O con la pizza finta? No Con la pizza finta No Si potrebbe giocare con la pizza vera? Eh È È un ottimo spunto Diciamo che Molto Molto semplice Molto veloce Così per passare Le serate Moleste E quindi È benciuto Questo spazio anche per loro Molto volentieri Dopodiché ho visto che Vi siete concentrati Sui podcast E i content creator Esatto Esatto Sofì se vale Se mi va Eh Vabbè Boh vale Vai vai vale Vado io Vabbè Allora Nessuno ne vuole parlare No No Anzi In realtà appunto Abbiamo pensato che In questo anno Qua funesto Durante lockdown Zone colorate varie Eh Queste persone Ci hanno anche aiutato A tra virgolette Sopravvivere A farci passare le serate Ad aglietarci le giornate Che erano lunghissime Insomma E quindi Abbiamo Contattato Eh Chi Cioè Ci siamo divise appunto Le persone da contattare E Facendo Boh Una carrellata Veloce Abbiamo Contattato Rude Dei Get 84 Che si è occupato Del podcast Su Pancadeca Sul sito di Pancadeca Si chiama Way of Life Eccolo qua Esatto Poi c'è Pancast Di Ale In questo Poi ci sei tu Poi c'è Dico Mi sono divertito molto A scrivere l'articolo Da Eh Starno Mi mi sono divertito molto A scrivere Oggi me lo sono Ripetto Ho detto Dai È divertente Da mettere Sì perché l'idea Comunque era nata Un po' tipo Fare la guida TV sorrisi e canzoni Esatto Ah Un fact su questo Vai La grafica È presa Da un TV sorrisi e canzoni Degli anni 70 Rimodernizzata Ma Ma Sono partita da lì Bene Tra l'altro È una foto Questa Con i circle jerks Ve l'ho mandata io E le altre Avete scelto voi Bomba Quella degli adolescence Ho detto Che bomba Questa foto Ci sta Ci sta E l'altra È della diretta Dell'anno scorso Sì Dell'anno scorso Poi c'è Detox Che è il Podcast di Mike Dei Decrex Decrex Esatto Poi c'è Andrea Roche Con i suoi I suoi vari format Che porca male Ne ha mille di format Sì sì Infatti sono Sono tanti Sono esatto Sono qua Tutti elencati E Poi c'è Laura Pescatori Che è una speaker Di Radio Onda d'Urto Che Fa Conduce il programma Rebel Girl E Poi ha scritto anche un libro Che si chiama Femita Che si occupa delle Delle donne Nel 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 rock Insomma Le donne nel mondo della musica Poi c'è Le Sturmo Rock Che sono i ragazzi Della radio di Bologna Esatto Poi c'è Open Music Conosco Saluti E Poi c'è Mark Renton Che è un altro ragazzo Che ha scritto Il libro È tutta una Punk Fiction Poi c'è Mox Cristador Che è il Mitico Maestro Mox Ciao fratello Con il Che ci ha Raccontato il suo Format Lato Chiamato Lato scuro Che non mi aspettavo Un trafiletto Così corto E da Da Mox Di solito Di solito Abbiamo dato un massimo Di righe Che dopo io Sono sempre sicuro Che ci sto dentro Però anzi Ho fatto la pagina grande Quindi si vede che ho scritto Più di quello che dovevo No ma c'è chi Ha scritto anche di più Quindi vai per la piazza Dai non l'ho fatto Non ho mai Non le sbaglio Le ha con le H Dai No sai che abbiamo fatto Un copia e incolla Però mi è scappato Completamente Ah non lo so Vabbè comunque se lo Correzzete per piacere Sì sì Aspetta Forse perché l'ho scritto Col telefono Non lo so Eh perché a volte Che lo corregge da solo Sì 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 Ho fatto qualche invio Io ho inviato Tipo la Il Come si dice Il testo Nella Nella riga successiva Ho perso una lettera Ma lo correggeremo Ah ecco L'ho trovato Mi fate un piacere Ma certo Non è quel Ricoglionato di canti Comunque andiamo avanti Vai tranquillo Waros Poi c'è Waros Con il suo format Sarapanca Che ne abbiamo Qui non mette Quanto è preso bene Ma sapete che è preso bene Al massimo Per via della droga Esatto perché Ricordiamo che gli abbiamo Rovinato la vita Con questa diretta E Poi c'è Just Eat Di Michael Salutiamo Michael Che è qua in chat Ciao Michael Ciao Poi c'è Pogo Zin Appunto Loro preferiscono che si chiami Pogo Zin Pogo Zin Di Franz K E Eccetera Poi c'è Gab della Vega Che Aveva fatto un ciclo di interviste A Artisti Che Sia italiani che stranieri Nel suo giro di amicizie Nel suo roster Così Poi Abbiamo La radio Ciroma Di Cosenza Mario e Manuel Ci hanno raccontato del loro programma Tasco e vuote Occhi rossi E poi Molto bello Sono stato ospite E infatti anche ieri Poi anche Ha mandato un vocale Con la Con la spiegazione Di Del Del magazine E poi la fine Del dummy room Che è il podcast Di Nate Nate ci ha risposto E Ci ha parlato appunto Del post Che abbiamo C'è La scelta di far scrivere Ai content creator Il pezzo È stata È stata È stata una scelta Nel senso che Ci siamo detti Con così tanti nomi Se Riassumiamo noi Quello che fanno Il rischio che diventi Un po' una lettura Stucchevole C'è Quindi magari Potreva essere Un po' più divertente E anche più interessante Vedere un po' Come Come decidevano loro E soprattutto il lavoro Se lo fanno loro Scrivetemi un articolo E Noi È scritto da voi Bene Bene Ragazzi È veramente Un bel prodotto E Dopodiché però Andiamo ancora avanti Perché C'è una parte Che mi è piaciuta Molto Dopo il podcast E E Qui si vede Perché Rimanendo appunto Fedeli agli anni 70-80-90 Da Bonbeckens È stata la baccheca Dei lettori E certo La posta del cuore Esatto Come nasce questo? Questo è stato Non so Secondo me Proviene da uno Di quei Meeting Che abbiamo fatto Verso febbraio Tipo quello Che abbiamo intitolato Perché abbiamo i titoli Ai meeting Che facciamo Quello Quello era intitolato Il meeting Più produttivo Di sempre Esatto Cioè Meeting Si dovrebbe parlare Di un progetto Alla fine Si beve Si mangia E voi date i tipi Di ai meeting Che fate? Sì Eh sì Però li facciamo dopo cena Con i carboidrati già Arrivati E tipo altri nomi Di meeting Che si possono sapere? Eh Allora Ce n'era uno bellissimo Che era tipo La fiera degli Obey Obey Ma non ricordo perché Adesso li vado Per il banchetto Di pancadica Che avevamo tipo Dioni sul Sul banchetto Quindi Era diventato Il mercatino Poi uno che si chiama La quadra Il ritorno Cioè vabbè Il ritorno immagino Non sia tra i primi Tipo Molto Filman i 90 Tipo Rossi in ritorno È uno che si chiama Sail Away Perché In onore della canzone Di Enia Ma è tutta un'altra storia Enia Enia Eh vabbè Ma Enia Erano delle parole Nelle canzoni Oppure Ma non era lei Cioè Oh no no La tua roba Tutta lì Così un po' Eh abbastanza Sì 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 vero 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 Che pallenia Sì E' un altro Era un matrimonio Di un mio amico Non c'entra niente Con tutto ciò Ma da quegli anni Com'è che si chiamava Quello spagnolo Che suonava La corna musa Oh ho in mente La canzone Ho in mente La canzone Un pezzo Ho fatto Della vita Però non mi ricordo Come si chiama Adesso non mi ricordo Comunque pensavo fosse scostese Invece È tipo Gallistiano Salcazzo di dove E c'era sto mio amico Che si doveva sposare Il comune E noi eravamo fuori Perché neanche potevi entrare Al matrimonio Perché c'era il covid Avrete saputo E noi eravamo fuori Con sto strozzo Che faceva il salto Ed è stato veramente Ghiacciato Perché pioveva Quindi eravamo tutti vicini Dove c'era una cassa Questo qua Che era con la corna musa Che è l'ostrumento Più fastidioso del mondo È vero Noi parliamo male delle trombe Parleremo sempre male delle trombe Ma Ma anche le corna musa Le corna musa Sono proprio un dito Cioè Che parla le corna musa Poi il sound check di cosa Era in comune Nella piazza del comune Avrebbe fatto il concerto La sera stessa Oddio L'Evia L'Evia Una roba del genere Tipo l'acqua Traenia E una bottiglia d'acqua E non la San Pellegrino Tipo l'Evia Comunque No Sai che non mi viene Scusate l'inciso Ma Era una storia Che No ci sta No no Assolutamente Andava riportata È vero E beh Comunque fa un po' Come concetto La bacheca dei lettori Perché in questa bacheca Ognuno poteva lasciare Qualcosa Qualunque cosa Anche la storia Delle cornamuse Quindi abbiamo Distribuito A raduno Dei volantini Come questi Aspetta che vi mettiamo In solo layout Ecco qua Questi volantini Che Ciao a tutti Che fondamentalmente Un po' Strizzavano l'occhio Al Al concetto Di testimoni di Geova E un po' Al Vabbè Ovviamente In maniera scherzosa Insomma Chiedevamo alle persone Tramite questo volantino E o Sui social Di inviarci appunto Quello che volevano Basta che fosse qualcosa Di pertinente E di Sì Diciamo Di relativo a quest'anno Quindi Questa canzone spagnola Si chiamava Hevia Scusate Cosa Ora non riesco a togliermi Quella canzone Della testa Dopo Nel karaoke finale Di questa La mettiamo La balleremo Tutti quanti Non c'è problema No La cosa bella Tra l'altro Di questa Bacchia dei lettori Poi Lascio di nuovo La parola a Sofi È che Cioè Al Bayfest Avevamo proprio La box In cui Avevamo lì Disposto Tutti i pennarellini Penne Foglietti di carta E la gente Poteva lasciarci Un messaggio Fisicamente Al Bayfest E se ne sono uscite Di ogni Però Sì Avete dei materiali Un po' più duro Per riuscire a fare i filtri E chi si fa ancora i filtri Con Boh Le cose Se non sono funzionali Alla droga Non sono funzionali Per un cazzo Però Vero Vero Eh ma C'è un'altra cosa Con cui si possono fare i filtri Ma la tiro fuori dopo Faccio solo così Allora Comunque Sì abbiamo raccolto Tutti questi Come dire Queste idee Pensieraggi Questi pensieri Pensieri A caso Che provenivano appunto Dall'ubriachezza Del Bayfest E Io ci credo Dal PD Cos'è Dal partito democratico Democratico Non lo so Forse questo è il nuovo Segretario Sal Che si vuole Nuovo segretario del PD Democratico Democratico Io ci credo PD Ci crede quindi Bravo Sal Ma la maggior parte Di queste cose Sono a liberissima interpretazione Cioè proprio necessitano Un interprete a volte Non mi ha disegnato Dei cazzi giganti Cosa che Avrei fatto io E qualsiasi persona Con un po' di sale Invece no Invece no Anzi Non abbiamo censurato niente Solo Un messaggio Non l'ho messo Che era Diciamo Destinato Era un messaggio Personale Dedicato a una di noi tre Adesso ne voglio Saper di più No No vabbè Fa tutto parte Diciamo Del clima Late night Bayfest Una dichiarazione Sì Tipo Da chi? Eh da un ragazzo No ma chi di voi tre? Ah Vabbè Dillo Vabbè io nel senso Poi è stato carino Perché è comparso Mentre facevo le foto Con un gin tonic E poi giorni dopo Si è scoperto Questo messaggio dentro Nella box Urca Però Quindi c'è anche Del drama Bello Bello C'è stato di tutto Sei molto imbarazzata Quindi continuerò A spiegare Questo argomento No Scherzo scherzo Visto che Ecco qua Andiamo avanti Effetto 2021 Qua vedo Eh molti hanno scritto Bravi Sostante Sì 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 Poi L'idea iniziale Esatto L'idea iniziale Era di mandarci Un contributo Su come Sei sopravvissuto A quest'anno Poi in realtà Ne è uscito Veramente di ogni Quindi è stato Proprio bello così C'è anche il disegno Di Camilla Murphy La figlia di Matt Il nostro Di Pantadeca Che rappresenta A Carabay Fest Ci ha fatto questo Bellissimo disegno Molto bello E quindi Immagino Che progetti Per il futuro Sarà Sviluppare Il messaggio Che ti è arrivato A te Amanda E farci un romanzo Sopra La sopopera Del 2022 Esatto No dai Ormai vedo Che ci state Prendendo gusto E un po' Imparando dagli errori Non so se ne avete Fatti Un po' Nel 2020 Però Cominciate un po' A prenderci gusto Con questi magazine Quindi Sì infatti Come recita Qua sopra i 5 euro Annuale Ormai No ma poi ci troviamo Anche bene Anche insieme Quindi C'è va oltre Anche appunto Alla semplice rivista Cioè poi siamo diventate Anche amiche C'è il momento emo Scusate No poi comunque Ricordate che la cosa bella È l'amicizia L'amicizia Poi tra l'altro C'è anche un easter egg Dentro Solo per chi legge Proprio tutto Ma tutto il magazine Alla fine troverà una cosa Che poi deve cercare Però non dico altro Esatto No spoiler Eh penso che sia Dite che cosa era Il coso di Against the Grain Era una pannotta No 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 Ok No vabbè No quindi sì È molto più difficile Del previsto Fare uno di quelle Di quelle grafiche Che devi colorare Perché Sì È veramente difficile Vabbè A parte Non ricominciare A rompere le balle Che c'è un programma Che te lo fa No quello non c'è Quello no Anche i cortini Sono stati fatti a mano Da Sono stati fatto a foto Shop puntino per puntino Esatto Urca No quindi dai Ci piace l'idea Di provare a raccontare Qualcosa di diverso In modo diverso Poi se piace bene Se non piace Noi ci divertiamo lo stesso Esatto Esattamente Esattamente Quindi progetti per il futuro A sto punto della live Direi Sono idee Ecco che Che è iniziato Che è iniziato con Con il covid Abbiamo detto O lo speciale Pellicceria Annabella di Pavia Mike Buongiorno Dentro O La romanza Ritroveremo la salma Di Mike Buongiorno Potremmo fare le uscite Come in edicola Costruisci il tuo Mike Numero per numero La papà del tesoro E alla fine lo trovi No perché è bello Perché Oltre tutte le cose Che si fanno online Eccetera E sono tante Però è bello Proprio avere qualcosa Di fisico Materiale Da poter sfogliare Quindi per questo Vi dico Non state Se volete supportare E dare 150 euro Per la copia in pdf Siete liberissimi Ma vi consiglio Di prendere La copia cartacea Perché è bello Poi si mette Insieme all'altro Diventa una parte Di una collezione Ed è Immagino Riguardandolo Soprattutto da un'altra Angolatura Ridarà proprio Il senso Degli anni Che abbiamo passato Con un'area di leggerezza Questo è il mio punto di vista Però immagino Che l'abbiate fatto Anche per questo voi Sì Alla fine era l'obiettivo Un po' Fare una specie Di Sì Di Raccolta Di Di questi anni Che Possibilmente Non si ripeteranno E avere qualcosa Per ricordarli È un po' come Quando fai una vacanza E compri un souvenir Ecco Questo per me Almeno è un po' Il souvenir Di questi due anni Di questi due periodi Ecco Per ora Che souvenir avete preso A Bellaria Quindi Che Suvenire avete preso A Bellaria Ce lo siamo creati Anche quello Bellaria Però c'è un C'è un erroraccio Ci hanno fatto notare Un erroraccio Che non è Bellaria Ma è Giamarina Il Bayfest Ci stava meglio Bellaria Praticamente abbiamo Fatto queste cartoline Per il Bayfest Con la grafica Ovviamente Volutamente Trash Solo che C'è visto che c'era scritto Bellaria E qualcuno La faccia vedere Che la metto in solo layout Vai Ok Ecco Visto che Comunque C'era scritto da tutte le parti Bellaria Trattino Giamarina Noi abbiamo detto Mettiamoci quello Che si presta meglio Essere graficato Però vabbè Ci hanno fatto notare Subito Che Ma è più divertente Perché Perché poi Sbagliata Esatto È come appunto La copia Zero Cioè non so Sì La copia Quella roba Forse la concezione Delle cartoline Io che ci sono cresciuto Non è Cioè Qui le cartoline Erano o donne Nude O basta Che non facevano ridere O palazzi Tipo foto di Miami Con sotto scritto Bellaria Era Assolutamente Miami In quella foto Oppure le file di ombrelloni Che te lo fa sembrare Il posto peggiore del mondo Che non è Eh noi abbiamo riportato Degli elementi grafici Molto treci Il sole Il delfino Il delfino Esatto Eh tra l'altro Doveva esserci anche quella Nel tuo magazine E ce la siamo persa via Ma Mi sa che Ah bello il sole Bello il pesce Tra l'altro I delfini Qua È veramente pieno Di delfini Questo è quello che dicono Le cartoline Esatto Quindi vabbè E no Poi appunto Se prendendo un magazine cartaceo C'è anche il poster staccabile C'è anche Arriva con la cartolina Quindi dai Cinque euro Speriamo Spesi bene Sono paura Avete tempo fino al 31 Quindi oggi siamo il 26 Mi raccomando Halloween è vicino E Halloween Il modo migliore per passarlo E ordinare la vostra copia Di Survive 2021 Esatto Grazie Bene ragazzi Da cosa investite per Halloween Quest'anno O se andate a feste di Halloween Così per chiudere E ammazzorendo il tutto Guarda Penso che Per lavoro Dovrò fare una cosa Con i bambini Quindi Impegno che ci metterò E quindi i bambini Si vestono da Halloween Sì sì esatto Eh ragione anche tu Ci penserò Qualcosa di semplice Di banale Eh no Una strega Queste cose qua Giusto per farli vedere Limpi per sempre Perché la fantasma Ku Klux Klan Il passo è troppo Non voglio correre il rischio E proprio Cominciano A dar fuoco alle croci E si creano E si creano E me la immagino Queste cose qua in testa Giusto No vabbè Valentina Per Halloween No io non credo di vestirmi Però non si fa mai In caso Ve lo dirò Ok grazie Ma io ho due scelte Ah cioè Valentina che disse No tu due scelte Sì perché Allora O faccio Una cosa classicissima Cioè da zombie Che è facile Oppure ho un vestito Con su tutti Dei mostri giapponesi Quelli proprio Classici Tipo Gamera Godzilla No tipo Gioni E così E quindi potrei fare Il fantasmo Già più Gioni La band Eh no Posso alzarmi un attimo Sì sì Ancora parlando italiano Non potete chiedere Se vi potete appare Ma avete detto parole Che io non comprendo Non ho capito Oh Foni Stiamo ancora parlando italiano Gioni Non lo so Tadam Aspetta che metto il sole Ah ma dai Ok Sono quelle robe Che io ne i tatuaggi Fondamentalmente Eh Gioni Ok Ma non è Halloween Cioè Un bel vestito Ma non è molto Halloween Style Eh lo so Però se Se ci fai il trucco Da mostro Esatto Basta fingerti morta Esatto Che non mi viene Difficilissimo Tra l'altro di solito Che festa vai Che sei indecisa Per il costume Eh anche lì C'è dell'indecisione Sulla festa E questo Andrà risolto A breve Ma Comunque qua a Milano C'è anche la possibilità Della Emo Night Urca la Emo Night E Off topic Cantor Fare un salto a Milano A novembre Per i Mengis Allora È lo stesso giorno Che sarò A vedere Gli Eli Kelly Al Bloom A Mezzago E tra l'altro Gli ho appena visti Settimana scorsa I Mengis Quindi no E mi hanno detto Se vado in Austria Se vado in Austria A fine settimana No non riesco Anche perché Ho parecchi concerti A novembre Quindi questo Quel weekend lì Non verrò in Austria Ragazzi è stato Un grandissimo piacere Avervi Qua con me oggi Anche per noi Benissimo Dai Vi auguro In bocca al lupo E ci diamo Il nostro appuntamento Alla Speriamo di vederci A un concerto Presto Dai Dai Venite a vedere Il release degli Eli Kelly Che spaccano Il 6 Hai detto Il 6 Va bene Grazie dell'ospitalità Esatto E ci vediamo Con il prossimo magazine FAC 2022 O che sarà Adesso spoilerato il titolo Non lo so Vedremo Grazie mille Canto Grazie a voi Ciao Grazie Ciao 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 Ciao